Buonasera a tutti, conferenza stampa pre Juventus Benevento, mister partiamo con le domande. Sonia Lantella, 8 Channel, come si affronta domenica la Juve? Se ci si chiude prima o poi ti fanno gol, se si gioca a viso aperto i rischi sono immensi. Cosa serve al di là di una grande partita? Beh, è una bella domanda, un po' di... Io penso che serva tornare ad avere carattere, ad essere noi stessi, a fare una partita come fino a un mese fa abbiamo abituato tutti. Per cui non penso che sia la normalità quello che abbiamo fatto nelle ultime tre partite, ma penso che sia la normalità quello che abbiamo fatto nelle altre 25-26. Per cui mi auguro che la squadra, l'ho vista bene in questi allenamenti, vada a fare una grande partita contro una delle squadre più forti d'Europa. Già all'andata abbiamo sovvertito un pronostico che ci dava battuti, per cui io penso che la squadra deve tornare a fare, a credere in quello che ha sempre fatto, in questo, insomma, quasi due anni con me. Qual è lo stato fisico dei tre infortunati, De Paoli, Letizia e Iago Falche? Qualcuno di loro partirà per Torino? Ma Letizia e Iago Falche non ci saranno, penso. De Paoli valutiamo domani mattina. È chiaro che dopo ci sarà la sosta, non vogliamo correre rischi, soprattutto su De Paoli e Iago Falche. Se ci fosse stata l'ultima partita della stagione, probabilmente ci sarebbero potuti anche essere, però a questo punto, insomma, dopo la sosta avremo partite molto importanti. Penso che sia giusto adesso far giocare quelli che si sono allenati di più, quelli che sono al 100%, per cui, insomma, valuteremo ancora domani mattina, ma, insomma, andremo con quelli che si sono allenati di più. Franco Santo, Corriere dello Sport e otto pagine. È legittimo pensare al ritorno della difesa a tre, come alla Spezia? In avanti, inizialmente, è la partita di Caprare e La Padula, che sono i due più rapidi? Vediamo, vediamo. Insomma, è chiaro che, mancando probabilmente De Paoli e Letizia, come sempre, dobbiamo fare delle scelte, se mettere in prota terzino, o pensare di giocare con due quinti, insomma, c'è anche full on. Vediamo, vediamo. Noi possiamo giocare in tutti e due sistemi, ma comunque, al di là del sistema che utilizzeremo, dobbiamo essere noi stessi, cercare di fare una partita propositiva, cercare di dare il massimo, e quello è quello che conta. Al di là del risultato positivo, che sarebbe un'autentica impresa, cosa chiede la sua squadra in una partita del genere? Ma l'ho già detto, l'ho già detto. Insomma, noi penso che abbiamo una, al di là di questi ultimi risultati, abbiamo una grande fortuna, che dipendiamo ancora da noi stessi, e penso che pensare che, insomma, adesso dopo, al di là del risultato di domenica, ci sarà la sosta, e poi si ripartirà, sarà aprile, e noi ripartiremo, avendo ancora il destino nelle nostre mani. Se ce l'avessero detto all'inizio, l'avremmo tutti firmato, per cui questo non ci deve chiaramente dare la tranquillità, noi sappiamo benissimo che siamo quelli delle 25 partite, prima delle ultime due o tre, per cui dobbiamo ritornare a essere squadra, a credere in noi stessi, a essere anche fieri di quello che abbiamo fatto fino adesso, a parte qualche intoppo che era prevedibile, ma io penso, insomma, che siamo partiti un anno e mezzo fa, se mi guardo indietro, bisogna anche, come ha detto il Presidente, che è stato bravissimo, capire, insomma, da dove arriviamo, e se ci giriamo indietro, penso che abbiamo fatto cose straordinarie. Chiaro che non siamo contenti di quest'ultimo periodo, in primis la squadra, perché la squadra sa che deve fare di più, però è chiaro che le difficoltà erano da mettere in preventivo, sapevo che se saremmo arrivati alla salvezza avremmo dovuto lottarla fino all'ultima giornata, avremmo firmato per lottare fino all'ultima giornata, per poterci salvare, per cui abbiamo tutto nelle nostre mani, questo ci deve dare grande serenità e voglia di ripartire. Luigi Trusio, il mattino, in caso di schieramento che preveda due punte, si può immaginare il tandem Lapadula-Gaic dal primo minuto? Davanti abbiamo l'imbarazzo della scelta, per cui al di là che se giocassimo con i due o tre quartisti più la punta, le due punte, lì abbiamo sette o otto giocatori, lì non c'è problema, valuterò quelli in più forma, quelli che possono entrare, l'esempio lampante è Domenica Insigne, che è entrato, ha cambiato la partita, ed è stato molto bravo, per cui chi non parte dall'inizio è sicuramente una risorsa averlo in panchina, e adesso avremo un allenamento domani, poi deciderò. Teio a destra, può essere una soluzione anche per mettere un giocatore più strutturato fisicamente e dotato atleticamente dalla parte dove agire a Cristiano Ronaldo, ma può essere indipendentemente dallo schieramento, o solo come quinto? Ma non possiamo preoccuparci di un giocatore della Juventus, se no dovremmo guardare tutti quelli che hanno, noi dobbiamo preoccuparci di noi stessi, dobbiamo tornare a essere una squadra, come l'è stato fino a due o tre partite fa, che quando arrivava il Benevento, tutti si preoccupavano, perché era una squadra che era difficile da battere, era difficile farci gol, era una squadra propositiva, noi dobbiamo tornare a essere quella squadra, al di là di Cristiano Ronaldo, dei grandi giocatori che affronteremo domenica. Luca Maio, Gazzetta dello Sport, lei molte volte ha sottolineato come il Benevento era considerato sicuro retrocesso nei pronostici precampionato e che a livello di organico la squadra giallorossa paga d'azio a quasi tutte le rivali. Non crede che insistendo su questo aspetto, inconsciamente la squadra possa sentirsi inferiore alle rivali e dunque rassegnarsi ad una delusione? Io non sono stati i propri giornalisti a dirlo, io penso esattamente il contrario, anzi, io l'ho sempre ripetuto perché volevo far passare un altro tipo di messaggio, che il nostro tipo di messaggio è quello della mentalità, anche se l'anno scorso non avessimo avuto la mentalità che ci ha contraddistinto, non avremmo fatto otto record, che se non avessimo mentalità non saremmo qui oggi, nonostante le difficoltà, essere salvi con la classifica attuale, per cui noi dobbiamo ripartire da queste cose, la squadra sa che ha del potenzialità, anzi, io penso esattamente il contrario della domanda che mi è stata fatta, probabilmente la squadra all'inizio aveva quella sana paura che ti fa rendere al 110%, poi probabilmente il giorno di andata, avendolo fatto così bene, ci ha fatto probabilmente mollare di quella percentuale che noi non possiamo permetterci, per cui io penso che la squadra ritornerà a fare quello che ha sempre fatto. Carmelo Presti Simone, Corriere del Mezzogiorno, il benevento nel giro di andata ha dimostrato di reggere con le big, come Juve, Roma e Lazio. Domenica, senza alcuni giocatori importanti, può tornare un po' di quella disperazione per sostenere il livello emotivo di una gara che sembra impossibile? Ma disperazione non mi piace come parola, perché noi siamo fortunati, facciamo un lavoro bellissimo, anzi, noi siamo in una posizione che avremmo firmato probabilmente tutti all'inizio dell'anno. Non dobbiamo farci trasportare dalle chiacchiere, perché è chiaro che quando vinci tutti salgono sul carro, quando perdi due o tre partiti tutti scendono, invece noi con la società, con il presidente, con il direttore, con questi giocatori siamo un blocco unico con i nostri tifosi che comunque ci sono sempre stati vicini, quelli veri, per cui noi sapevamo dall'inizio che sarebbe stato difficile, qualcuno probabilmente si è illuso, non noi, però sappiamo anche che quello che abbiamo fatto nelle ultime due o tre partite non è da noi, che dobbiamo dare una svolta, che dobbiamo ritornare a fare quello che abbiamo sempre fatto, però come dico, insomma, come ricordo sempre, se in 28 partite, adesso non so quante, per 24-25 abbiamo fatto il nostro dovere, e ne abbiamo sbagliato due o tre, sarà più facile tornare a fare quello che siamo abituati a fare, per cui da questo punto di vista sono molto tranquillo. Luca Romano, Megapress, quali soluzioni adotterà per firmare Cristiano Ronaldo? Abbiamo già detto, la Juve è una grande squadra, non lo scopro certo io, noi dobbiamo andare a fare la nostra partita. Roberto Corrado, cronaca del Sagno, per riuscire a fermare la Juve, servirà un bel evento assai simile a quello visto nella gara d'andata? Beh, ma noi ci è già successo, insomma, se la gara d'andata abbiamo bloccato la Lazio, abbiamo bloccato la Juventus, abbiamo bloccato la Roma poche settimane fa, io penso che questa squadra abbia le credenziali per giocarsela contro chiunque, come ha sempre dimostrato. Ultimamente siamo mancati, per tanti aspetti, non ultimo, quello che noi non ci lamentiamo mai, ma abbiamo avuto, insomma, fuori giocatori molto importanti per noi, perché, insomma, sento le grandi squadre, che quando gli manca qualche giocatore, insomma, Iago Falca non l'abbiamo mai avuto, Letizia, che era un giocatore che stava andando in nazionale, insomma, l'abbiamo fuori da 70 giorni, per cui, questo, oltre al fatto di conoscere quello che è questa squadra, ci deve dare la carica per fare una bella partita a Torino, per rimboccarci le maniche nella sosta, recuperare qualche giocatore importante e fare le ultime dieci partite sapendo che il destino è nelle nostre mani, per cui questo penso sia molto importante. Danilo Volpe, Quotidiano Roma. Cosa sta succedendo a Benevento in questi ultimi mesi? Come si può riaccendere la scintilla? Ne ho già parlato di questo, io non penso siano gli ultimi mesi, penso sia l'ultimo mese, perché negli ultimi mesi c'è la partita con la Sampdoria, c'è la partita con il Torino, ci sono tante partite fatte bene, per cui non si può giudicare l'ultimo periodo. Penso che nel giorno d'andata abbiamo fatto qualcosina in più di quello che era probabilmente le nostre corde, adesso siamo un po' sotto, per cui basta trovare quell'equilibrio che ci può consentire in queste ultime undici partite di trovare insomma quei dodici, tredici punti che ci garantirebbero di vincere il nostro Scudetto. Il suo confronto con Pirlo Gattuso, ora anche De Rossi è entrato a far parte dello staff di Mancini. Avete qualcosa che accomuna, che vi accomuna voi ragazzi di Lippi? Beh, di quel gruppo ci sono tanti allenatori, per cui mi fa molto piacere l'entrata di Daniele, perché è un ragazzo molto intelligente, secondo me diventerà un ottimo allenatore, perché ha passione, perché ha valori, perché è una persona a modo, per cui sono molto contento. Penso che inizi nel modo giusto, perché poter andare a vedere a vedere come lavora Mancini, che è uno dei migliori tecnici che abbiamo, possa essere per lui da supporto, per imparare e penso che poi un personaggio come lui possa dare qualcosa alla nazionale. Michele Romano, Il Giornale di Napoli. In questa settimana ha lavorato più sul piano psicologico o tecnico? Beh, io penso che un allenatore deve lavorare su tutto. Noi dobbiamo ritrovare quella spenseratezza, quella voglia di giocare, che ci ha sempre contraddistinto in questo anno e mezzo da quando io sono allenatore. Nessuno mi potrà mai togliere tutte le soddisfazioni che abbiamo avuto. Come dicevo prima, abbiamo ancora tutto nelle nostre mani ed arrivati quasi ad aprile, a inizio d'aprile, avere ancora tutto nelle nostre mani deve darci una grande carica. Chiudiamo con Massimiliano Mogavero il sanno quotidiano. L'impressione avuto dalle ultime partite è di un benevento in difficoltà anche sul piano della tenuta fisica. Quali sono le condizioni generali della sua squadra e quanto sarà utile la sosta per ritrovare brillantezza? L'ho già detto, l'ho già detto. Abbiamo tirato e la sosta viene, penso, a genio soprattutto per poter recuperare certi giocatori che per noi sono molto importanti. Per cui nella sosta recupereremo, qualcuno dovrà andare in nazionale. Ma dopo la sosta avremo due partite in casa molto importanti dove ci giocheremo tanto e spero di avere la rosa al completo.